Una rete di Cicerello e titoli di coda evita la beffa al Francavilla che esce dal Tubaldi di Recanati con un punto strameritato all'arrivato al termine di 90 minuti entusiasmanti e contrassegnati da tante occasioni da rete. La squadra del presidente Girberto Candeloro manca il primo successo esterno della stagione ma torna dalle marche con la convinzione di poter far bene da qui al termine della stagione. Assenti illustri in casa giallorossa all'appello mancano lo squalificato Mele e gli infortunati Cruz, Banegas e Alessandro Di Renzo, Rachini schiera la sua squadra con il 4-2-3-1, locali guidati da Alessandrini con il 4-4-2. Inizio arrembante degli ospiti abruzzesi, al terzo Sanchez riceve palla in area, effettua un pallonetto con il pallone rinviato prima della linea di porta da Riutens. Al quinto tiro di Palumbo con la Recanatese che riesce ancora a salvarsi, passa un minuto ed è Caffiero a trovare la deviazione del portiere Piangerelli con la palla che poi arriva a Sanseverino che crossa per Sanchez che di testa mette sopra la traversa. Incoraggiante l'approccio dei giallorossi ospiti al Nicola Tubaldi dove si gioca di fronte a 400 spettatori. Al diciannovesimo si rende minacciosa per la prima volta la formazione di casa con Olivieri che in area si gira e conclude alto. Al ventitresimo ancora padroni di casa insidiosi con Borrelli su punizione prima del limite. Ecco la sfera calciata però che finisce di poco a lato. Cresce la squadra di Alessandrini che arriva ad un passo dal vantaggio e con il portiere del Francavilla che dice no a Lunardini con un grande intervento. Il portiere giallorosso non può nulla poi al trentunesimo quando si scontrano al limite Bosco ed un compagno di squadre con Manuel Pera che ne approfitta per presentarsi tutto solo di fronte all'esterno francavillese superato con un tiro liftato che fa terminare la sfera alle sue spalle. Svantaggio immeritato per gli ospiti che rischiano subito dopo di subire il raddoppio. Passa infatti un minuto e l'ex Matelica Pera se ne va sulla sinistra e con un pallonetto mette la sfera al lato davvero di un nulla. Sbanda la squadra di Paolo Rachini per qualche attimo. Francavilla che però poi si rivede al trentottesimo con Bellanca che chiama Piangerelli al salvataggio in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner i giallorossi perdono palla e con i padroni di casa che se ne vanno in contropiede in vantaggio numerico e con l'azione conclusa da Pera che trova la respinta con i piedi di Spataro. Ancora ricanatese al quarantesimo con Spataro che pasticcia ma con Sivilla che non riesce ad approfittarne. Gara che non regala pause visto che al quarantunesimo ci prova per il Francavilla ancora Sanchez che mette la sfera di pochissimo fuori. Nella ripresa al settimo Maio lo pesca in area Sanchez che riesce appena a sfiorare il pallone di testa tutto solo davanti al portiere recanatese. All'ottavo Palumbo trova De Costanzo in area che però scivola davanti al portiere marchigiano. Così come nel primo tempo l'avvio di ripresa è di marca abruzzese. Al decimo c'è un gol annullato a Sanchez per un fuorigioco dubbio. Attacca il Francavilla che non demorde che al dodicesimo colpisce il palo con Sanchez di testa e poi con Bedin trova la parata di Piangerelli. Si disperano i giallorossi che meriterebbero ampiamente il pareggio. Al venticinquesimo nel Francavilla esce Nazari ed entra Cicerello. Il cambio risulterà poi decisivo. In campo intanto gli abruzzesi continuano ad attaccare a testa bassa trovando il secondo legno di giornata al ventinovesimo con De Costanzo che poi è costretto ad uscire per Crampi. Gara che sembra stregata per Palumbo e compagni che trovano però finalmente il pareggio al quarantaquattresimo con Sanseverino che crossa in aria per Cicerello che di testa salta più in alto di tutti mettendo il pallone alle spalle di Piangerelli per l'1-1. Grande l'esultanza per i giallorossi che però rischiano di perdere una partita quasi dominata al quarantaseiesimo quando Borrelli mette a centro aria per Palmieri che sulla linea di porta mette incredibilmente alto. Raghini, Francavilla che ha rischiato di perdere una partita dominata per almeno 70 minuti avete costruito davvero tantissime occasioni da rete, due pali, un gol annullato probabilmente regolare poi alla fine Cicerello è riuscito ad evitare quella che sarebbe stata davvero una beffa. Questo è un po' quello che ci sta succedendo ultimamente nel senso che comunque la mia squadra crea, gioca, gioca anche bene però poi alla fine anche la partita di oggi l'ha pareggiata al novantesimo dopo, secondo me come hai detto tu, dopo aver dominato secondo me è dominato nei primi 20 minuti, poi un pochettino abbiamo sofferto nella seconda parte del primo tempo e abbiamo preso un gol su un errore difensivo e poi nel secondo tempo penso che in campo c'è stata una sola squadra ha creato occasione e ripetizione. Ripeto, ci portiamo a casa a questo punto, potevano essere tre però che cosa devo dire ai miei ragazzi? Ho fatto i complimenti perché secondo me hanno sfoderato veramente una prestazione importante. Non siete riusciti a vincere la prima partita in trasferta di questa stagione però tante occasioni costruite qualche errore di troppo in avanti? Sì, abbiamo preso un palo, diciamo, si poteva fare meglio, abbiamo creato altre situazioni in cui bisognava buttarla dentro ma diciamo che in questo momento è così, ci gira un po' storto, però ripeto, l'importante è continuare a creare poi alla lunga arriverà anche il risultato pieno fuori casa. Un pareggio comunque importante che serve per muovere la classifica, per guardare al futuro con moderato ottimismo ma anche perché è un punto ottenuto su un campo difficile contro una delle migliori squadre del girone. Sì, sono d'accordo, la Reganatese è una squadra attrezzata per fare molto bene, giocatori importanti davanti, un allenatore molto bravo, quindi io sapevo della difficoltà della gara, ripeto, però oggi penso che la mia squadra abbia fatto qualcosina in più della Reganatese e quindi io sono contento così. Giusto, da parte vostra, penso che nel primo tempo abbiamo avuto almeno tre palle gol per chiudere l'incontro, così non è stato, è normale che contro squadre forti come Francavilla poi si possa anche soffrire, la squadra non è che ha sofferto eccessivamente il secondo tempo, ha tenuto abbastanza bene, alcune situazioni sono state bravi quelle di Francavilla ma di questo ne eravamo a conoscenza, secondo me è una delle squadre più forti del campionato, perciò insomma tutto sommato dispiace tantissimo perché come ha detto lei a quel punto la partita era finita, poi sul pareggio abbiamo avuto anche l'occasione però è andata così e guardiamo subito avanti. Il calo della ripresa almeno a livello di gioco, per quello che abbiamo visto noi dalla tribuna, lo hanno detto anche i colleghi di Recanati, a cosa è dovuto secondo me? Non significa che c'è stato un calo da parte mia, abbiamo tenuto il campo. Noi abbiamo contato 6-7 occasioni da rete del Francavilla contro una della Rega Anatese. Beh vabbè vuol dire che avete ragione voi, io non la vedo così perché abbiamo tenuto il campo bene, non abbiamo concesso più di tanto perché se andiamo a vedere tutte queste 6 o 7 occasioni... Gol annullato molto dubbio con Sanchez che sembrava partito dietro il giocatore, il difensore della Rega Anatese, questo dalla tribuna sempre, da rivedere. Non so, adesso io devo rivedere, magari ha ragione lei, non lo so, non mi interessa. Diciamo che è un pareggio che secondo me dovevamo chiudere là, abbiamo avuto più situazioni per chiudere la partita così non è stato, poi è normale che contro una compagine che penso che abbia investito tantissimo in questo campionato ci può anche stare.